ogni movimento non è fine a se stesso ma è il proseguimento del movimento precedente e apre la strada al movimento successivo adesso con lui che con i nostri allievi più avanzati facciamo vedere un esempio pratico facciamo vedere prima piano lui ad esempio attacca con un jeb dentro e vado subito ad interporre una tecnica per bloccarlo da qui proseguo colpendo con un calcio all'articolazione qui sfrutto il peso che sta cadendo avanti per andare a colpire con il pugno al viso se tutto ciò non fosse bastato lui continua a mantenere a essere ancora una situazione a mantenere anche una situazione di pericolo per me qui colpisco e qui entra un altro principio tipico del tempo jiu jitsu che è quello del movimento a recupero di energia o anche detto armonia direzionale io da qui sfrutto questo per caricare un colpo successivo lo costringo ad esempio a piegarsi da qui posso entrare in presa e proiettarlo possiamo far vedere più velocemente per un po un'idea di quello che potrebbe essere lui attacca con un jeb mi fermo quando lui non è più un pericolo ora ovviamente una cosa è la pratica in palestra grazie a una cosa è la pratica in palestra una cosa è una situazione reale come mi dice un vecchio maestro io più di tre colpi in teoria non devo poter utilizzare perché vuol dire che c'è un problema o sono scarico io ho davanti un gigante che regge tutto devo imparare che da dove mi trovo posso sempre proseguire questo è fondamentalmente un discorso più d'apertura mentale che altro non mi devo porre un blocco io so che devo poter continuare ad avanzare facciamo vedere un'altra caratteristica anche qui del campo jiu jitsu che usa colpi che in altre discipline non sarebbero neanche lontanamente concepibili lui mi attacca con un calcio frontale a mai gheri lo allontano vado subito a bloccargli la spalla perché lui non possa colpirmi e perché non possa girarsi verso di me lo colpisco da qui lo afferro calcio di tallone e lo porto a terra facendo a vedere a velocità un po più reale lui viene di mai gheri e anche questo ad esempio un calcio molto utile che non richiede un gran riscaldamento non richiede una gran preparazione fisica ma è tra virgolette pronto all'uso in una situazione d'autodifesa può essere portato da una ragazza da una donna da un bambino perché si va comunque a tirare cose semplici su zone sensibili a 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 Sì, 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 sì. Sì, 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 sì.